Allora, caro, caro, caro Riccardo Rossi, generazione Z, generazione boomer, questi sono gli ingredienti improvvisi a te. Allora, è chiaro, io adesso ti ho dato 40 punti e siamo pari, però tu devi capire che io comunque in qualche modo mi sento più vicino alla generazione dei boomer, per ovvi motivi, ma anche per una cosa, voi dovete capire che noi, in confronto a voi, la nostra gioventù è stata un po' più eroica della vostra. Vi spiego per quale aspetta un attimo, ancora non ho detto niente, e ho capito, però si deve calmare. Allora, ti dico, perché voi avete oggi delle cose che vi aiutano molto, per esempio il navigatore, noi non ce l'avevamo, e quindi per arrivare in un pozzo a salutare, c'era il tutto città, ma se il tutto città, oggi lo vedete, infatti vedi, oddio che è, ora te lo dico, era una cosa, tu dovevi carico, via Andrea Sacchi, lui ti diceva pagina 75, scritto numeri romani, 75esima pagina, poi ti diceva C3, tu devi andare a vedere, C3, vedevi una porzione, una porzione di quella parola lì, e diceva, ma fammi capire, accanto c'era la pagina, allora vengo da qui, però dove, dove girarlo tutto, però lì capivi come funzionava la città, oggi vado lì, ma dove sei non lo sai, arrivederci, buonasera.